Perché la sua azienda ha scelto Agrigento? L'abbiamo scelta prima di tutto perché io sono di origini siciliane, mio padre è nato ad Agrigento. E poi perché ci è piaciuta, perché lo scorso anno il presidente Kamata Takahiro è piaciuta moltissimo visitando la Valle dei Templi. E allora ha detto, dovevamo fare un gemellaggio. Prima aveva parlato del nord, abbiamo visitato la città del nord. E io ho detto, perché non in Sicilia? Poi siamo venuti in Sicilia e lui visitando la Valle dei Templi si è innamorato e ha detto, ok, facciamolo qui ad Agrigento il gemellaggio. E così abbiamo deciso di fare il gemellaggio con la città di Agrigento. Avete visitato diverse aziende, com'è andata? Benissimo, ieri ne abbiamo visitate tante perché sono stati loro a venire da noi, il sindaco ha fatto organizzare una grande esposizione di tutti i prodotti siciliani. Ed è andata benissimo perché poi adesso ci saranno gli interscambi, gli scambi, gli interscambi no perché, soltanto di esportazione. Perché dal Giappone non hanno molti prodotti da poter portare in Italia. Però noi italiani abbiamo tanti prodotti da portare in Giappone e quindi è lavoro e danaro che arriva in Italia con tanti perché loro usano pagare soltanto in contanti. Non come le nostre aziende che non ci sono più soldi. E quindi cerchiamo di portare i soldi in Sicilia. Ho preferito io la Sicilia perché mi piace e poi perché c'è tanto sviluppo da fare. perché è troppo bello. Poi è bellissima, quindi noi siamo tutti entusiasti, loro sono entusiasti di questo. L'accoglienza è stata eccezionale, devo dire, di una gentilezza e un entusiasmo. Poi i siciliani siamo solari, o no? Quindi è giusto che sia così. Loro amano questo perché loro non hanno questo entusiasmo in Giappone. Sono tutti molto lineari, molto corretti. Mentre invece qui hanno trovato molto calore, molto umanità, anche perché noi siamo sanguigni ed è giusto che sia così. Sindaco, per Agrigento si potrebbe aprire una porta economica con il Giappone grazie a questa delegazione che è arrivata appunto dal Giappone. Sì, abbiamo in questi giorni ricevuto la delegazione, questa delegazione è venuta dal Giappone, una delegazione che è composta dai rappresentanti di un comune del Giappone e poi è composta anche da titolari di aziende che fanno import ed export con l'Italia. Questa delegazione con la quale da alcuni mesi c'è un contatto, mi avevano chiesto di incontrare le aziende che dalle nostre parti producono olio, vino, quindi tutti i prodotti che vengono fuori dal latte e altri prodotti agricoli, dolci, anche sono rimasti molto colpiti dai nostri dolci. Nella giornata di ieri ho fatto sì che ci fosse questo incontro con tante aziende, sono rimasti molto colpiti. Penso che abbiamo gettato le basi per un rapporto su un piano economico e di scambi molto significativo e importante per la nostra città.